Qualcuno dice che Beppe Grillo sia stanco, disillusionato e che voglia togliersi questo peso di essere il capo del Movimento 5 Stelle. E nel magma dei riposizionamenti l'unico che ci sta mettendo la faccia è proprio il garante Beppe Grillo. Il comico è tornato a parlare dell'attualità attraverso il suo profilo Facebook e il blog personale. Prima ha preso in giro più o meno bonariamente Di Maio per la storia del mandato 0-1-2, poi ha intervenuto a gampa tesa sulla TAV dicendo scontento della piega che sta prendendo il Movimento. Lo showman diventato leader politico sembra solo impegnato a scindere la sua immagine dal nuovo corso impresso da Di Maio. Un divorzio vero, tanto che i boatos dicono che Grillo non potrebbe presentarsi alla Kermes Italia 5 Stelle in programma il 12 e il 13 ottobre a Napoli. Forse farà un collegamento a distanza? Comunque un'assenza che sarebbe a dir poco significante, emblematica e inquietante. Quindi una mutazione genetica del Movimento 5 Stelle e probabilmente Grillo sembrerebbe, qualcuno dice, che voglia autoespellersi da un movimento che ormai non considera più un qualcosa di personale ma di impersonale. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.